Ciao amiche, andiamo a cominciare questo primo allenamento insieme, mi raccomando spingete con tutto il piede verso basso, il piede rimane principalmente piatto e stiamo premendo verso basso su uno solo trampolino, spingo, 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 proprio per entrare in flusso di questo nuovo movimento, questo nuovo esercizio, spingiamo, spingiamo. Ok, portalo poco poco più in su, non essere rigidi con le ginocchia, ok, le gambe devono essere belle e diciamo sciolte, ok, spingo verso basso, ancora, quattro, tre, due, portalo avanti, otto, indietro otto, piccoli salti, ok, poi proprio un riscaldamento, otto in avanti e otto indietro. Mi facciamolo otto volte, spinto in avanti, ok, non dovete saltare troppo, indietro, ancora, in avanti, otto, e indietro, otto. Ok, lo proviamo in quattro tempi, siete pronti? Quattro, indietro, quattro, ancora, quattro, e indietro, continui, quattro, indietro, questo è l'ultimo, quattro, e indietro, due tempi, due avanti, due indietro. Ancora, dai, una nuova vita, partiamo insieme, ancora, quattro volte, tre volte, due volte, ok, rimaniamo in centro, apro le gambe, she gave the jumping jack. Chiudo otto, e apro ancora, otto, chiudo otto, otto, quattro tempi, quattro, chiudo ora, quattro, spinge, quattro. Spinge, ancora, quattro, spinta centrale, ancora, quattro, proviamo in due tempi, ok, due, 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 quattro ancora, tre ancora, due ancora, e proviamo singoli, apro e chiudo, ok, ci stiamo semplicemente riscaldando. Ancora, 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 quattro, e tre, due, e uno, adesso facciamo sci di fondo, otto, ok, le gambe proprio patinano insieme, ok, cambio, cambio, otto, ok, volano insieme e i piedi sono sempre piatti, otto, ok, sono sempre piccole pressioni verso basso, otto, piano piano, cambio, otto. Spinta, volo ora, otto, ok, piano, 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 ancora, otto, compi in venti, proviamo in quattro tempi, ok, quattro, cambio, quattro, quattro, quattro ancora, cambio ancora, tre ancora, facciamo ancora due volte, quattro. Proviamo in due piccolini, due, 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 ancora, e due, 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 altre quattro volte, quattro, tre, proviamo singoli, prontali, ok, piccoli passi, proprio stai patinando, ci siamo sci di fondo, ok, continui, 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 otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ok, stendiamo le braccia all'altetto del petto, ok, guardate che i gomiti sono sempre leggermente piegate, sentirete proprio i muscoli delle braccia diventare più pesanti, perché ogni volta che atteriamo, i nostri muscoli si contraggono di più, ok, così, voglio insegnarvi un po' come saltare sul trampolino con questo primo allenamento insieme, dove avete tutto sotto controllo, ok, lo tieni, ok, senti il movimento senza mai esagerare, ok, adesso partiamo qua, spingiamo, basso, due, tre, quattro, ancora, cinque, sei, sette, in avanti, e otto, sette, sei, cinque, ancora, quattro, tre, due, apro per quattro, quattro, chiudo, quattro, ok, anche senza muovere troppo le braccia, comunque il cappetto elastico ci sta aiutando, ok, quattro, ancora, quattro, e quattro, apro i bracci due, due, e chiudo, e due, dai grandi sorrisi, perché stiamo facendo una cosa per il nostro benessere, ok, l'allenamento fa sempre bene, fa sempre bene, quattro, tre, due, troviamo i singoli, apro più, ancora, continui, 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 otto, sette, sei, cinque, e quattro, tre, due, oh, eccellente, ok, mettiamoci in centro, continuiamo a spingere verso il centro del tappeto, ok, siete pronti, spingo, spingo, e portiamo le braccia a destra, ok, e cominciamo a fare un tamburo, ok, spingo, spingo, andiamo, otto, ancora, ancora, vado avanti, quattro, tre, due, e uno, vado, otto, ancora, ancora, quattro, tre, due, uno, ancora, otto, ancora, quattro, tre, due, continui, vai, otto, ancora, ancora, quattro, tre, due, uno, ultima, otto, vai, 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 quattro, tre, due, e salta, ok, adesso lo faremo in velocità, siete pronti, continui a spingere, tutto bene, ok, con i piedi piatti, movimenti belli e semplici, belli e piccoli, e tutto sotto controllo, andiamo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, ora veloce, ancora, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, pugni, ancora, ultima volta, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, torno al centro, e andiamo a jumping jack, apro, otto, chiudo, con otto, spingo, chiudo, ancora, sempre i piedi piatti, quattro tempi, chiudi quattro, ancora, quattro tempi, chiudi quattro, ancora, quattro tempi, chiudi quattro, dammi ancora una volta, quattro tempi, tu chiudi quattro, eccellente, rimango qua, rimango, ok, come sta andando, sta andando bene, perché ricordate che se vi state saltando, vi state allenando, ok, prima volta facciamo tutto, super semplice, per poi andare a crescere insieme, siamo pronti, adesso portalo in avanti, otto in avanti, indietro, otto, grandi sorrisi, otto ancora, otto, ya, indietro, otto, ok, le dai quattro tempi, facciamo, quattro in avanti, quattro indietro, ancora quattro, indietro, quattro, ancora quattro, indietro, ottima volta, quattro volta, ok, occhio, facciamo il jumping jack, jump in quattro e chiudo quattro, ancora quattro, jump in quattro, chiudo quattro, quattro in avanti, quattro in avanti, quattro indietro, quattro in avanti, quattro indietro, l'invole, apro quattro e chiudo quattro, ancora, apro quattro e chiudo quattro, vieni in avanti, quattro in avanti, quattro indietro, quattro in avanti e quattro indietro, da capo, andiamo, otto, e pugno, otto, ancora, otto, con questo braccio, otto, 5, 6, 7, ancora 8, 7, dai 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 ancora andiamo 8 ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3 torno centro in jumping jack 4 più 4 4, 4 e spinta ancora 4 e spinta in avanti andiamo 4, dietro 4, ancora 4, di nuovo questo, 4 jump in 4 jump in jack e in chiudo 4, ora 4 jump in jack e in chiudo 4, in avanti 4 in avanti, 4 in dietro 4 in avanti e 4 in dietro 8 braccia in avanti 8 ancora, ancora 8 braccia basso avanti ancora questa vai vai 8 braccia braccia 8 ancora 8 in avanti vai vai jumping andiamo 4 4 e in giù ancora 4 4 chiudi 4 porta in avanti 4 in avanti 4 in dietro ancora 4 in avanti 4 in dietro 4 in apertura 4 in chiusura ancora piedi piatti ancora spinta verso basso in avanti 4 in avanti 4 in dietro ancora 4 in avanti 4 in dietro ok guarda spingo verso basso occhio molto bene ok questo è molto importante quando c'è soltanto un piede in movimento l'altra gamba non si stacca dal trappolino sta sempre spingendo verso basso ok questo è molto importante così lavoriamo sempre in massima sicurezza ok spingo spingo 4 3 2 vado più veloce spingo verso basso ma guarda bene il piede gli appoggio non si stacca mai ok noi non si stacca mai con il trampolino è molto importante di non staccare mai il piede dello sostegno per proteggere le caviglie e le genocchie spingo giù spingo giù ma spingo con l'altro ok come se stesse proprio abbracciato al tappeto stesso ok ci siamo ci siamo 4 3 2 e frulla con le braccia frulla 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 usa con le braccia così cominciamo a riscaldare tutto il corpo frulla frulla 8 7 6 5 4 3 ok con la gamba sinistra spingo basso spingo basso questo sta proprio incolato sul trampolino ok spingo verso basso spingo verso basso senti come tutti i fluidi nel corpo si stanno proprio attivando ancora frulla frulla ok adesso ragazzi con questo giro cominciamo a girare piano 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 ok bello tranquilli gambe belle larghe ok 4 3 proviamo di nuovo con le gambe destra 8 8 6 5 4 3 ancora 8 8 e adesso giriamo verso destra ok con la stanza larga 4 3 2 1 e sinistra spingo ancora 8 e giro vai vai come sta andando come sta andando facciamo tutto da capo da qui vado ancora pugno in avanti 8 sinistra 8 grande sorriso andiamo vai vai hai visto che sei già in campionessa vai dai 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 ancora vai 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 8 e torniamo in centro 8 ok jumping jack 4 in apertura 4 in apertura 4 in chiusura ancora 4 in apertura 4 in chiusura 4 in avanti spingono avanti piccolo salto indietro spingono avanti piccolo salto indietro jumping jack 4 apro chiudo, ancora, apro, chiudo, 4 in avanti, 4 in avanti, 4 indietro, ancora, 4 in avanti, 4 indietro, ok, adesso, spingo, ancora 8, ancora 8, 8, giri a destra, gira, 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 4, 3, da proviamo a sinistra, 2, 8, 8, spingo verso basso, guarda, questo piede non si sta saltando, assolutamente, gira, 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 4, 3, 2, ok, su con le gambe, con le gambe si aprono le basso e vanno su, ok, ancora, ancora, torno indietro e spinto con le gambe, un po' più grande, spinto verso basso, ok, questo è il nostro boost step ballistico, andiamo, 8, 8, e spingo basso, spingo, 8, ancora, usa le gambe, usa le gambe, usa le gambe, usa le gambe, spingi, spingi, mi fai in 4 tempi, così, apro 4, chiudo 4, ancora, apro 4, chiudo 4, e l'ultima volta, tutto da capo per un'ultimissima volta per oggi, vai, spingo, seconda volta, pulse, e vado, parto, ancora 8, 8, vai, 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 e viaggio, ancora, 8, vai, 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 giro, 8, e in centro, 4, 3, 2, jump in 4, apro, chiudo, ancora, apro, chiudo, in avanti 4, 4, dietro, ancora, spingo ancora di più, perché state, questa è l'ultima volta, jumping in 4, apro 4, chiudo, ancora, apro, chiudo, in avanti, 4, indietro, ancora, 4, andiamo sulla marcia con la gamba destra, 8, 8, spingo verso basso, spingo, come se stessi calcolare, ok, gira a destra, gira a destra, 4, 3, 2, sinistra, 8, ancora 8, 8, spingo verso basso, giri, 360, vai, 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 ancora, 4, 3, 2, 4 su, 4 su, dietro, ancora, 4, indietro, ancora, 4, indietro, e ultima volta, 4, indietro, ottimo ragazze, come è andato con la prima lezione proprio di salti, vi sentite tante salterine, ottimo, ricordate, di cominciare al piano, questo esercizio può essere fatto anche due volte al giorno, ma vedrete tutti questi allenamenti, che vi dico giorno da giorno, come dovete effettuarli, ok, con la gil, passate una giornata molto speciale, perché vi siete allenati, ok, ogni volta che mi metto in contatto con il mio corpo, è come un atto di autostima, come un atto di alto amore, di alto rispetto, e così, dopo che hai finito il tuo allenamento, complimentiti, dici brava, ce l'hai fatta, perché è veramente un primo passo a riconquistare te stessa, ti aspetto nel prossimo allenamento, baci dalla gil.